Ennesima operazione interforza di polizia annunaria e tributaria è stata condotta al mercato settimanale di Gela. 20 unità tra vigili urbani e militari della Guardia di Finanza hanno rilevato ed accertato numerose infrazioni commerciali e fiscali, sequestrati in genti quantitativi di articoli commerciali con marchi contraffatti e venduti in assenza di autorizzazione commerciale. Sotto chiave sono finiti scarpe, borse, cinture e compadisc, scoperte inoltre quattro imprese commerciali prive del sistema di registrazione fiscale delle vendite. Riflettori accese anche su altre otto imprese commerciali che hanno omesso l'emissione dello scontrino fiscale. 13 imprese commerciali invece esercitavano abusivamente l'attività all'interno del mercato settimanale. Polizia Municipale, agli ordini del Comandante Giuseppe Montana e Guardia di Finanza, diretta dal Capitano Massimo De Vito, hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di circa 5.000 euro. Notizia di reato è stata inoltrata alla Procura della Repubblica. Il blitz di martedì scorso si inquadra nell'ambito dell'azione intrapresa dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Municipale di Gera per riportare ordine e legalità nella vita economica cittadina al fine di prevenire e reprimere ogni fenomeno di illecita concorrenza e porre le basi per un ordinato sviluppo commerciale. Le operazioni saranno ripetute nei giorni seguenti investendo i diversificati ambiti commerciali e artigianali in cui maggiormente si rilevano i fenomeni di abusivismo che impediscono un regolare sviluppo dell'economia locale.